Allora, sono in India Questo è il benvenuto in Calcutta Sono arrivato ieri, è due giorni che piove Tutto allagato Se fossi stato qua in Scutef sarei uguale a lui Quindi sarei spingendo molto probabilmente Sto capendo perché girano tutti in sandali Perché praticamente se giri con le scarpe ti inzuppi tempo zero Quindi le scarpe Sono vicino alla casa di Soumandu Il signore che mi ospita Adesso ho un canale praticamente da attraversare Vediamo se ce la facciamo senza che mi manlucca Grazie Grazie Grazie